Ciao a tutti, io sono Sara e per quest'anno ho deciso di crearmi dei nuovi obiettivi e me li segnerò su questo libretto. Se volete sapere come l'ho fatto guardate il video fino alla fine. Grazie a tutti. Questa è la copertina, ma dall'altro lato c'è gli obiettivi nei 2020 casi e dall'altro gli obiettivi a lungo termine. Qua c'è le cose che mi piacciono di più, i cavalli. I noni che vorrei dare ai miei cavalli. I cavalli preferiti, le lezioni, le passeggiate, le cadute, le ricompense che amo il cavallo, i miei amici e lo shopping che vorrei fare per me e per il cavallo. Se ti è piaciuto il video e vuoi sostenerti iscriviti al canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.